Adentrandosi in questi giorni nel padule di Fucecchio, l'area umida interna più estesa d'Italia è possibile assistere ad un vero e proprio spettacolo faunistico. Circa 60 fenicotteri rosa provenienti da Nord stanno sostando nell'area palustre, regalando a tutti gli appassionati e non solo, una vista davvero meravigliosa. Per due di questi esemplari fotografati in questi giorni è possibile anche conoscere la provenienza esatta, visto che si riesce a leggere il codice dell'anello che portano alle zampe. Uno arriva dalle valli di Comacchio in Emilia Romagna, l'altro invece arriva dallo stagno di Fangassier nelle oasi della Camargue in Francia. Attraversando la strada provinciale 111 che da Massarella porta a Stabia in zona Cavallaia, è possibile osservare da vicino la colonia che per coloro che conoscono la zona è visibile anche dal cosiddetto chiaro del Chiti, più all'interno rispetto alla strada provinciale.